2, 1, via! Non voglio vedere il resto del mondo. Non assaporare, in goia! Buona, classica, buona! Ha fatto una colazione, ha detto? Ha fatto una prova? Guarda che te lo stai da! Dai, dai! Ma che è la tecnica? Ma mio zio Luca! E' la boccasso, è la boccasso! Tranquillo, tranquillo, guarda! Bello, magro, tranquillo, anche la mamma, la magra e via! Bravi! Perché il magna pianco, quindi? Digeri seduto perché il magna pianco! Il record del mondo penso che potrei farlo per teologo! Un minuto! Un minuto! Bravo, stai qui! Bravo! Bravo, stai qui! Troppo tutto in bocca e via! Non masticare il tuo poccasso! Perché sei calmo, guarda! Non ti commove il mare, il San Gelato! Tranquillo! Troppo tutto in bocca! Mi sa che è il record questo! Vai, due, due! 2, 2, 2 tutto in bocca vai no 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 non esagerare non esageriamo fai un malanno tutto, tutto, tutto vai un minuto e 40